Quando qualcuno racconta una storia, crea un intero mondo. E di solito, i personaggi rimangono lì. Ma la leggenda narra di personaggi così reali... Con il pastello, tutto è possibile! ...da entrare direttamente in questo mondo. Vediamo come funziona nel mondo reale. Vediamo! Questo sì che è creativo! E' spaventoso. Sì, spaventoso, spaventoso. Vola! Più in alto! Ok, sto diventando molto bravo! Bravissimo! Che cosa pensavi? Oh no, in realtà io non penso molto. Vero. 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 Vero.